buongiorno a tutti l'errore è uno dei più gravi errori che fanno tutti faccio ancora io in parte adesso perché comunque il percorso interiore di spiritualità è un cammino che è un work in progress cioè non ha praticamente mai fine ok è quello di non capire che dentro di noi c'è un'interiorità perché la maggior parte delle persone vive pensando che dentro di sé non ci sia nulla questo perché perché la sua parte interna è inconscia non è consapevole nel 99 per cento delle persone e quindi praticamente lui non sa di avere un'interiorità tutti parliamo bla 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 io sono a posto sono in pace con me stesso sono in pace con me stessa quelle frasi fatte da da baci perugina o da buona domenica o da uomini e donne in realtà quasi nessuno è in pace con se stesso ma perché non sa neanche chi cazzo è se stesso se stessa ma non perché sia una stronza uno stronzo o cosa ma perché torno sempre sul solito argomento in questa cultura dove sei nato tu che stai guardando questo video uomo donna ragazzo adulto persona matura o cosa non ti hanno minimamente sottolineo con questo avverbio minimamente insegnato a guardarti dentro di te e quindi praticamente come se noi oltre i due occhi che abbiamo che guardano l'esterno ce ne fosse uno metaforico che guarda dentro l'interno ma che noi qui in questa cultura materialista specie occidentale questo terzo occhio praticamente fosse atrofizzato forse ci avesse una mappazza di cataratta così sopra cioè nessuno è capace di vedere dentro questo questo cosa implica che la propria interiorità non la conosce praticamente quasi nessuno se non quei pochi spiritualisti spiritualiste ma serie non quei santoni pieni di ego cosa che riescono a lavorare dentro di sé ecco ma a parte questa premessa l'errore in cui catono tutti praticamente tutti è quello di pensare che l'esterno modifichi il proprio interno ovvero io ho l'ansia io mi sento sola io mi sento solo io mi sento abbandonato io non mi sento capito capita e allora cosa faccio cerco fuori di me una persona una fidanzata un fidanzato un amico che mi faccia stare meglio quest'interiorità mia che si sente sola ecco questa è un'inculata mostruosa perché non succederà mai cioè tu potrai anche trovare la donna perfetta l'uomo perfetto ma essendo che la tua interiorità è tra virgolette che non si offenda nessuno io uso questo termine forte ma per scuotere anche le vostre coscienze malata continuerà a essere insoddisfatta rovinerà quel rapporto farà in modo che quella persona si allontani oppure semplicemente pur avendo quella persona lì continuerà ad essere insoddisfatta ok e mentre invece il processo è inverso è la tua interiorità che modificandosi cambia l'esterno cioè tu facendoti il culo perché non smetterò mai di dirlo in questo mio canale fino che avrò una molecola di ossigeno per respirare facendoti il culo quadrato lavorando dentro di te modifichi il tuo interno allora il tuo interno come una sorta di proiettore avete presente i proiettori dei cinema quantomeno i cinema vecchio stampo adesso un po che non sono tecnologizzato ma comunque penso sia uguale al proiettore del cinema modificando il tuo interno il tuo interno farà in modo che attrarrà delle situazioni dei lavori nuovi degli incontri nuovi delle ragazze nuove o dei ragazzi nuovi qualsiasi cosa degli amici nuovi che ti renderanno soddisfatto cioè tu devi prima rendere soddisfatto il tuo interno soddisfatto nel tuo interno e questo a specchio provocherà un cambiamento nel mondo esteriore nel mondo esteriore noi siamo tutti convinti che gli incontri che facciamo siano delle combinazioni semplicemente dovute al caso non è assolutamente vero gli incontri che noi facciamo o le occasioni che ci capitano le sfighe sono attratte sono attratte magneticamente da noi in base all'interno che abbiamo ed è per questo che ci sono persone che rimangono sfortunate sfigate per tutta la vita anche se sono magari dei bei ragazzi delle belle ragazze e via dicendo o hanno delle delle grosse capacità intellettuali e magari rimangono con dei lavori di merda più tutte le casistiche della vita di sfighe che possono capitare ok oppure di contrapasso ci sono che ne so degli uomini brutti come la merda insensibili o anche grezzi professionalmente che hanno botte di culo continue voi conoscerete senz'altro un vostro amico e vi starà sui coglioni in una maniera incredibile anche se il buonismo imparante implica che te ne devi stare zitto ti deve stare sui coglioni standoti zitto sta persona che sapete benissimo che è meno intelligente di te quasi sempre è più brutto o più brutta di te e cazzo gli capitano tutte le fortune di sto mondo mentre tu che sei più bella più intelligente c'hai 37 40 anni sei single e incappi in quello che tu poi con le amiche quando ti bevi lo spritz chiami in tutti i casi umani questi casi umani tu li attrai non per un caso perché se fosse un caso tu ne attrarresti uno e poi quello successivo invece sarebbe una persona bellissima no tu se no ti continui ad attrarre quasi sempre questi che tu chiami casi umani e la tua amica quella più brutta di te o più 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 ciospa anche a livello intellettuale di te o cosa non muove il culo non fa niente e cade sempre col culo nel burro la testa sui coglioni sta cosa lo so ti sta sui coglioni ti rode ma devi anche sorriderle a sta tipa anche perché povera cioè poveraccia se a culo se una fortuna non è che uno glielo si può rifacciare ma questa tua amica perché è più fortunata di te perché ha avuto il culo quando era piccola oppure proprio per una sua caratteristica personale di non rovinarsi l'interiorità e quindi la sua interiorità che non è rovinata come la tua continua a proiettare all'esterno incontri situazioni occasioni che la portano ad avere culo e tu invece continui perché hai avuto magari dei traumi sei più sensibile ti sei rovinata l'interiorità con delle esperienze negative da piccola da ragazzina o cosa continui ad attrarre l'ubbriacone che quando poi beve troppo magari gli parte pure una mappazza in faccia poi lo vai a denunciare o lo stalker o altre cose ok adesso ho voluto fare un esempio di cortesia verso le il gentil sesso cioè verso le donne facendo un esempio di una donna ma la stessa cosa vale per un uomo quindi non mi fate sempre fare a e b a e b è la stessa cosa avete capito l'interno si modifica solamente con la meditazione l'interno si modifica solamente facendosi il culo non spendendo migliaia di euro facendosi inculare da dei santoni che ti promettono l'illuminazione in un weekend non andando in cima al k2 così non dico sempre l'everest o andando con due i bomboloni in immersione sulla fossa dentro la fossa delle mariane assolutamente la si può fare anche seduti su un divano di casa ma se non fai quello se non ti fai il culo non cambierà mai un cazzo tu cercherai ecco c'è uno spiritualista di cui condivido molte cose altre no che usa questa metafora e poi su di me fa anche un po ridere comunque cercare di cambiare l'esterno per modificare il tuo interno è la stessa assurdità che mettersi allo specchio e cercare di pettinare lo specchio invece che pettinarti te ecco io ovviamente mi posso al limite come ho fatto adesso tagliare la barba lasciarmi il pizzetto giocare un po con la faccia i capelli li raso a zero ma avete capito il 99,99999999 periodico per cento delle persone cerca di pettinare lo specchio anziché pettinare se stesso se stessa dentro di sé ma ripeto non perché sia una persona stupida non perché io sia un genio rispetto a loro ma perché queste cose in questa cultura in cui viviamo non ve le hanno mai 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 spiegate mai mai ripeto lungi da me passare per complottaro non ci lo dicono a quelle stronzate lì ma questa cosa qui in questa nostra cultura specie questa cultura occidentale non te le spiega nessuno e tu continuerai che non segui questo canale non hai queste imbeccate continuerai per tutta la tua vita a cercare di pettinare il vetro dello specchio anziché la tua testa quindi a cercare fuori di te quello che in realtà devi modificare prima dentro di te modificandolo prima dentro di te quindi nella metafora pettinandoti la tua testa allora vedrai il riflesso nello specchio i capelli che si pettinano con buona pace dei pelati di cui io ne vado orgogliosamente fiero di esserlo ok mettete per favore un like a questo video se un minimo l'avete compreso iscrivetevi al canale io non chiedo offerte non chiedo paypal non chiedo mance non chiedo un cazzo non chiedo sta minchia o cosa chiedo solamente per l'algoritmo di sta piattaforma se non vi fa schifo di mettere un mi piace e se fate un mettete un commento aiutate ancora di più c'è anche un iscritto frank buongiorno che lo lo saluto scrive sempre delle cazzate mi sta anche simpatico ma anche scrivere delle cazzate serve comunque ad aiutare l'algoritmo ok un like un commento iscrizione al canale gratuito ciao